Parte oggi la riforma dell'assegno unico. Sino al 31 dicembre è presentabile la domanda per la nuova misura di sostegno alle famiglie con figli minori a carico che non hanno diritto agli assegni familiari. Tocca ai lavoratori autonomi, ai disoccupati, ai coltivatori, tutti con ISEE inferiori a 50.000 euro annui. Per gli importi si vale 30 euro sino al massimo di 167,5 al mese per ciascun figlio, con la maggiorazione del 30% per le famiglie con tre o più figli o con disabili.